Un posto al sole, spoiler al 1-12, Damiano sospeso dal lavoro. Sarà una settimana emozionante quella di un posto al sole, ma come annunciato in una nuova anteprima. Damiano sarà senza lavoro dal 27 novembre al primo dicembre. Viola vedrà questa decisione come una vendetta nei confronti di Eugenio e sarà furiosa con il marito. Nel frattempo Rosa si prepara a rompere con il suo passato e Clara deve lottare con Alberto per la custodia di Federico. Intanto Edoardo, pronto a lasciare Napoli per sempre, fa una proposta sorprendente alla donna che ama. Aida inizia a cercare lavoro, ma Michaela riceve un'offerta per unirsi a Michele alla radio. Docia fredda per Damiano, lockdown al lavoro è giunto il momento per Damiano di prendere una decisione importante tra il suo amore per Edoardo e la sua divisa. Ciò influenzerà inevitabilmente la sua carriera, poiché Eugenio è furioso quando viene a conoscenza della decisione del poliziotto. Damiano viene squalificato, lasciando Viola a pensare alla vendetta. La madre di Antonio sarebbe convinta che, dopo il tradimento, Eugenio abbia approfittato della situazione per vendicarsi. Le donne saranno preparate al conflitto intenso con i loro ex mariti e l'idea di una separazione pacifica diventerà sempre più lontana. Nel frattempo Edoardo si prepara per una nuova vita fuori Napoli, ma non ha intenzione di lasciare andare Clara. Una donna riceve una proposta inaspettata da Sabais che le cambierà la vita per sempre. Lo scoppio della guerra tra Clara e Alberto Alberto diventa sempre più aggressivo nei confronti di Clara e smette di ascoltare i consigli di Nico. Il giovane avvocato farà del suo meglio per mediare tra i due ex soci nell'interesse di Federico, ma Paiadini continuerà per la sua strada. Non è un buon momento per Rosa, che decide di raccontare a Giulia del suo cuore spezzato. La donna capirà finalmente che deve rinunciare a sperare in Damiano. Le difficoltà finanziarie peseranno sul cuore di Rosa, ma Giulia e i suoi affettuosi amici sono tutti dalla sua parte. Aida cerca lavoro per non gravare su Feli e Marina. Anche i problemi economici affliggeranno Ida. Vuole aiutare la sua famiglia in Polonia senza gravare su Marina e Roberto. Questa situazione spingerà la madre di Tommaso a mettersi alla ricerca di un lavoro, che sarà una grande occasione per conoscere Diego. Il figlio di Raffaele cerca di essere gentile con Ida per avvicinarsi a lei, ma le cose non vanno come previsto. Ci saranno grandi novità anche per Cirillo, poiché Filippo propone a Michele di aiutarlo a condurre un programma radiofonico. Sabbiani sbufferà, ma neanche la sorella di Selena sarà contenta dell'idea del cognato. Tuttavia, Michaela alla fine si convinse a fare un provino per il ruolo di co-conduttrice e cambia completamente idea. La ragazza deciderà di provare a convincere Michele e Filippo che intendono portare a termine l'incarico.